Ciao ragazzi qui è Subbit e benvenuti in questo pack opening Prima di fare pack opening perchè oggi è un pack opening veramente emozionante Ragazzi voglio un attimo dirvi alcune cosette Ragazzi sospenderò purtroppo The Last of Us Ma aspettate Dopo questo video penso che risultati arriverà The Last of Us Una puntata dove io sclererò di brutto Ma più che sclerare, piccolo spoiler, ve lo dico Più che sclerare, per lo più mi metto paura Cioè sarebbe quel palazzo E voglio che poi, se tutto va bene, domenica uscirà l'ultimo episodio Ragazzi durerà 26 minuti l'ultimo episodio Ma voglio che sia tu Samu e anche tu Eug Dovete vedere perchè siete citati in questo nome Fatta la premessa Eug deve aspettare un po' per God of War perchè sono un po' occupato Allora ragazzi, quest'oggi voglio fare un attimo un'analisi di un videogioco Prima di passare al pack opening Perchè un pack opening di una sola cosa Poi vedremo se ne posso fare qualcun'altro Perchè ovviamente mi sembra scarso Allora ragazzi, parliamo di questo videogioco Kingdom Hearts versione 1.5 1.2.5 Ragazzi ovviamente ha le sei avventure di Sora E ragazzi, il gioco mi è piaciuto comunque Il gioco mi è piaciuto dal punto di vista gaming Gaming, dal punto di vista tecnico Dal gamer Tutto, aspetta, ora ne approfitto Eh Eh, la barba Scusate Ovviamente ragazzi Per farvi vedere questa nuova avventura Ragazzi è bellissimo il gioco Comunque mi piace Kingdom Hearts Però c'è qualcosa che E allo stesso tempo Fa Mi fa comunque arrabbiare Perchè Ho provato il primo Questo qua Final Mix E ora sto giocando per lo più A Kingdom Hearts Kind of Memories Che sarebbe Tecnicamente Che Sora Usa delle carte Durante i combattimenti Non faccio gli spoiler Di tutte e sei Perchè non li conosco Ovviamente penso che dopo Battlefield 1 Ragazzi dopo Battlefield 1 Ci sarà Kingdom Hearts Le serie L'avventura di Sora In tutte e due le versioni Perchè raga Comunque anche se hai personaggi Disney Guardate Se lo metto a fuoco Hai personaggi Disney Cioè è bellissimo Comunque il gioco È fatto benissimo Non sei per se scusate È fatto benissimo Comunque L'ho comprato Ovviamente E ci sto giocando Comunque mi sta piacendo Molto Cerco di finirlo Però la storia sarà Bella lunga In Final Mix Sono arrivato al primo punto Appena si è stata la scoperta Di Topolino E poi Nella seconda punto Soltanto appena arrivato Al castello Della Bella Addormentata Ok raga E ora raga Ci vuole per forza La sigla Dai No raga No raga Però aspettate Perché c'è il pezzo della sigla Ma non lo sentite Soltanto lo vedete Ragazzi C'è il pezzo della sigla Che c'è il pezzo della sigla Raga Questo è il momento In cui Goku Vediamo se lo sapete Questo che momento è Un minuto in avanti Per non lo spoiler Raga Questo è il momento In cui Goku Lancia l'energia sferica Contro Machin Bu E questa volta Ragazzi Non sa di Giappone Questa volta Sa di GameStop Comprato Ufficialmente Dal GameStop Saluto Due miei amici Che sono Carlo E Mario Questa volta Ho trovato Carlo Mario mi dispiace Ma purtroppo Così funziona Così Carlo La finisce Di dire queste cose Ok raga Guardatelo però La bellezza E ora raga Direi subito di aprillo Stavolta Ho le forbici Messe bene Guardate però C'è anche la versione Super Saiyan Chissà se Loro l'avranno E Vediamo Ovviamente Ok fatto Oh Per poco Ma rompevo la busta Stavolta Non sa di Non sa di Giappone Guardate Sa di GameStop Va bene Carlo Così la finisci Ragazzi È veramente È fatto benissimo Già mi immagino Dentro All'interno Come Come sarà Ok Ok mettiamolo Lo scatololo Lo teniamo qua Dov'è Ah è qui dentro Naga Oddio No 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 Wow Sette Questa è mia La cantina Mi va Apro un attimo No però È bellissima Wow E' Decapitate No guardate Ovviamente Questo è il brisco Mamma mia ragazzi Ma quando sarà alto Dai Continuiamo Dai 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 Questa non sa Ci sta di GameStop Lo stiamo creando insieme Lo stiamo creando insieme Così va bene Scusate un attimo Tanto odio quando stanno tutto vicino L'ho comprato oggi Ovviamente sarà Chiamiamolo il pack opening di Pasqua Però è troppo scarsa Voi direte E infatti da un lato si Non ha parecchie cose infatti Che è sto con Un attimo solo Vabbè comunque Guardiamo il design Dei piedi Fatto benissimo Guardate Fatto benissimo Ora apriamo ovviamente Il pezzo di sopra Naturalmente Raga Mamma mia Ovviamente raga Io l'ho vista Tante di quelle volte Questa scena Mamma mia Imballato per bene Aspetta Sa di GameStop Dai 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 Ragazzi Delegatezza Perché è dry È Goku Perché qua c'è lo scotch Un attimo Tengo paura raga Oh Oh No 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 Dimmi Aspetta Aspetta Goku Un attimo Quasi incastrato No però raga No No Guardatelo Guardatelo Aspetta Lo voglio mettere così No raga Però Guardate Aspetta Non è messo bene Qua Non so sto cosa A che serve E a che serve Sto cosa 20 cm Infatti raga Però guardate Come è fatto Ogni dettaglio Vai 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 raga Diamogli l'energia Guardate È fatto benissimo Però Raga È fatto benissimo Qua sta scritto Sulla scatola 20 cm D'altezza Guardate Sta scritto in giapponese Però Raga È fatto benissimo Guardatelo Le mani Vediamo un po' Le mani sono fatte benissimo I muscoli qua Guardate La sua faccia Guardiamo la faccia Mamma mia Raga Qualcosa di Perfetto Ragazzi Allora Questo è il momento E chi non la sa Questo è il momento In cui Goku Anzi In realtà È Vegeta Che dice a Goku Goku Preparati Per l'energia Sferica È l'unico modo Per sconvincere Machin Buu Cosa fa in questo Prisimo momento Vegeta Ovviamente Chiede agli abitanti Della terra Di dare l'energia A Goku Ma nessuno Lo ascolta Ma grazie All'intervento Di Mr. Satan È lui Ragazzi A salvare Il destino Del mondo Veramente C'è Incredibile Qualcosa Ma non Non ho parola Ovviamente Ragazzi Io Questo pacco Non posso Scrivere qua E prima di finire E prima di finire Ragazzi Volevo ricordarvi Che dopo Uscirà The Last of Us E voglio Che almeno Qualcuno di voi È pregato Di guardarlo Perché Poi domenica Uscirà L'ultimo episodio Di The Last of Us Dove io Mi incazzerò Di brutto Vabbè Ragazzi Questo pacco Opening Scusate Se è breve Dopo Martedì Vedrò Di farne Qualcun altro Però fatta Un saluto Di nuovo A Carlo E a Mario Due Amici Comprato Ufficialmente Da GameStop Questa volta Ragazzi Allora Questo video Finisce qua Lasciatemi Mi piace Un commento Iscrivetevi al canale E ovviamente Dategli la vostra energia Voi iscritti Qua da Sade Subit E tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ragazzi 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 Grazie a tutti.